ciao sono il titolare dell'elminoliti di savona sono qua per presentarvi il nostro nuovissimo opel vivaro mezzo versatissimo partendo dai sedili anteriori dove abbiamo posto di vida più due sedute parte posteriore tre sedute che si vanno a ribaltare completamente andando a permettervi di caricare tutto ciò che volete per una dimensione di lunghezza di due metri e venti vi aspetto per qualsiasi tipo di noleggio trovate a savona via valetta san questo però è linoleggio ciao a tutti